Nel sesto giorno della novena di San Gaetano preghiamo per i morti. San Gaetano, la tua vita ci mostra che l'amore di Dio può fare tutto. Oggi ti chiediamo in particolare di intercedere davanti a Dio Padre nostro per garantire ai nostri morti la pace che non ha fine. Possa il Cielo aiutarci a non abbassare le braccia nella disperazione di fronte alle difficoltà che ci presentano. Lo chiediamo per Gesù Cristo nostro Signore che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.